Ecco tutti i personaggi che dovrebbero apparire in Spider-Man Across the Spider-Verse Ovviamente avremo il ritorno di Miles che tornerà con una nuova tuta Dovrebbe tornare anche il Peter Parker che abbiamo visto nel primo film Così come Gwen Stacy Inoltre vedremo sicuramente Spider-Man 2099 Che verrà doppiato da Oscar Isaac E' trapelato inoltre che nel film vedremo Cyborg Spider-Man Inoltre abbiamo conferme sulle apparizioni di Spider-Punk e lo Spider-Man giapponese Che apparirà probabilmente con il suo robot gigante Ci sarà anche la versione incinta di Spider-Woman E cosa più importante di tutte Toby, Andrew e Tom torneranno per interpretare le loro rispettive versioni di Spider-Man Anche se non sappiamo ancora se appariranno nel secondo o nel terzo capitolo della saga